Bene allora un saluto a tutti, pronostichiamo gli accoppiamenti di Champions League partendo dall'Inter tutti dicono Tottenham, io dico Inter e Real Madrid, Ancelotti contro Simone Inzaghi ma insomma è un sorteggio che ci può stare, certo sono un po' accigliato però va bene e invece a me spiazzerebbe parecchio, il Milan beccherà invece il Tottenham e quindi Pioli contro Antonio Conte è una partita importante però lo dimostreremo tutto in campo, invece per me insomma è un sorteggio da rizzare i capelli però considerando che non sono i miei va bene così Napoli, Napoli becca il Leintracht Francoforte, anche se considerando il culo che il Napoli ha avuto negli ultimi sorteggi non mi sorprenderebbe se beccasse il PSG Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli per finire la Juve, la Juve no, la Juve il pronostico lo deve fare pardo perché la Champions è su Sky e invece l'Europa League è su Tottenham quindi a posto così, saluto a tutti dal punto di vista tattico e dal punto di vista tecnico